Perfetto, allora equipaggi d'Oltrano è composto da prima voga Michele Bimbi, seconda voga Lorenzo Nesti, terza voga Matteo De Martino, quarta voga Andrea Scagnoli, quinta voga Andrea Cavicchi, sesta voga Tommaso Petacchi, la timoniera è Francesca Cavicchi, gli allenatori sono Alessio Toncelli e Macco Castelli. Il rione di Montecchio è composto da prima voga Luca Cavallini, seconda voga Erox Pasquini, terza voga Davide Sasso, quarta voga Andrea Matti, quinta voga Leonardo Sasso, sesta voga Francesco Del Nista, la timoniera è Virginia Baccheretti, la riserva Giovanni Cataldo, gli allenatori sono Alessandro Del Corso e Alessandro Bultraghi, aiuto barca Andrea Bracci. Il rione della nave, prima voga Alessandro Trivella, seconda voga Patrizio Viasci, terza voga Matteo Carli, quarta voga Davide Rigo, quinta voga Gabriele Colagrossi, sesta voga Andrea Barbetta, la timoniera è Giada Trivella, gli allenatori sono Rebecca Meioli e assistente allenatore è Guglielmo Alessandru. Vediamo un po', eccoli, 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 eccoli i partiti, eccoli i partiti per la prima manche, vediamo che c'è un allineamento molto, molto diciamo forte, sembra che Montecchio sia leggerissimamente in avanti, con la nave e oltrarlo, vediamo un po', vediamo un po', ricordo sono tre manche, così in prospettiva si renderebbe che Montecchio e la nave sono sulla stessa linea, forse leggerissimamente più avanti, Montecchio in questo momento, rinviene, rinviene oltrarlo, sono tutti e tre in la stessa linea, oltrarlo sta riflettendo il Montecchio, siamo proprio lì, a questo finisce un po' in ritardo la nave, Montecchio, sembra Montecchio, 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 nave e, chiedo scusa, oltrarlo è nave, ora aspettiamo il risposto ufficiale, attenzione, vediamo un po', partiti, partiti, partiti ancora, partiti ancora, vediamo un po' come questa manche si evolve, credo, credo, la prospettiva non è la migliore, ma credo che in questo momento ci sia un buon arrivamento, sembra leggermente avanti la rossa, leggermente avanti la rossa, Montecchio e la nave, vediamo un po', la rossa, la rossa, l'azzurra e la verde, vediamo, vediamo, vediamo un po', la rossa sembra aver messo le ali, Montecchio e la nave sullo stesso livello, leggerissimamente, leggermente, leggermente più avanti in questo momento, la verde, del Montecchio, la nave, la nave, e l'oltrarno, oltrarno, 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 vediamo un po', se non c'è bisogno del fotofinish, oltrarno sicuramente, oltrarno sicuramente, oltrarno sicuramente, e poi credo Montecchio e credo nave. insieme ai tre presidenti dei tre minori, eccoli qua, belli, forza, forza ragazzi, ultimo sforzo, e la prospettiva prega sempre, ma io credo che in questo momento, forse è la nave un po' più avanti di tutti, vediamo un po', vediamo un po', nave Montecchio e l'oltrarno, nave Montecchio e l'oltrarno, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', come si sta evolvendo gli ultimi metri, sicuramente vediamo avanti la nave, seguita da Montecchio, tecchio e l'oltrarno, vediamo un po', verde, blu, rossa, 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 e stavolta a vincere è sicuramente la verde, secondo posto, attenzione perché c'è la grande rimonta, vince Rossi, io credo che sia la rossa. Vince il premio più ambito, quindi Montecchio 350 euro, vince il Montepremi più ambito di 500 euro, Brione Oltrarno!